I trattamenti rivolte al ringiovanimento del volto devono essere personalizzati, dopodiché bisogna fare molta attenzione nel mantenimento della naturalezza del viso. È molto importante fare una visita medica, sentire con attenzione le esigenze del paziente, capire bene quali sono i suoi problemi e sapere anche come risolverli. Dopo il nostro trattamento il paziente deve percepire l'armonia del suo viso integrata con la naturalezza dei suoi tratti. Per ottenere dei ottimi risultati è molto importante che il paziente sia informato sui trattamenti che desidera effettuare e eventualmente sui prodotti che gli verranno proposti e si deve assolutamente fidare al professionismo dello specialista.